La cultura genera altra cultura. Da libri arrivano 20 banchi e 20 sedie per la scuola elementare e media di Colonia Spiaggi. Intanto l'occasione è l'ultimo libro scritti, che è una raccolta di vari saggi e articoli che sono usciti su delle riviste locali, da Corus a Eidos e altre riviste. L'occasione è stata quella, come abbiamo fatto anche nelle altre iniziative, durante questi 10 anni, in cui i libri ci hanno dato l'occasione di intervenire con atti che noi chiamiamo di bongenismo. Cosa farete di questa donazione di questi 20 banchi e 20 sedie? A cosa serviranno? Serviranno per rendere finalmente fruibile un'aula, che è una postazione non proprio multimediale, ma un'aula video, che vorremmo poi attrezzare anche con delle postazioni multimediali. Perché al momento abbiamo soltanto il megaschermo e non avevamo modo di poter utilizzare al meglio l'aula. Questo significa per noi bongenismo, un intervento diretto nel sociale con una partecipazione attiva da parte di chi lo fa. In un momento in cui la scuola è in difficoltà, questo comunque è un bel segnale, anche da parte delle associazioni dove non arriva lo Stato, arrivano le associazioni. Certo, io infatti sono stata veramente sorpresa dalla donazione del professor Di Marco. C'è una grande generosità, una grande attenzione e insomma non possiamo che prenderne atto. Spero che sia anche d'esempio per i nostri ragazzi che utilizzeranno quelle postazioni e imparare la generosità dalla generosità degli altri.